Buonasera, 26esimo appuntamento stagionale con RTTR Volley. Siamo reduci da una settimana senza impegni ufficiali per la squadra, ma abbiamo tanto da raccontare anche questa sera perché sappiamo che giovedì si apre la fase dei quarti e poi si sta giocando. È cominciato ieri il turno preliminare per sapere chi sarà invece l'avversaria di Trento nel proseguo di questa Superlega con l'inizio dei play-off per il 10 di marzo. Di tutto questo noi parleremo con Sracco Lisinac che è collegato con noi. Buonasera Sracco, come stai? Buono, sto bene, grazie. Sei in una bellissima sala che conosciamo bene, quella dei trofei di Trentino Volley. Speriamo che sia la benaugurante per questa stagione. C'è una bella storia dietro di me, questo muro. Tra l'altro non un trofeo ma un bel riconoscimento e partiamo subito da qui, è arrivato proprio per te perché sei stato scelto come migliore della bolla di Friedrich Schaffen, nonostante Trento abbia giocato soltanto due delle tre partite a causa appunto dei casi di Covid riscontrati nel Friedrich Schaffen. Tu però hai messo giù i numeri più importanti, hai segnato ben 22 punti, 15 attacchi, 6 muri, un ace, 83% in attacco. Numeri importanti, insomma, in questa gara, in questa tre giorni per la qualificazione ai quarti. Sì, sono buoni i numeri ma secondo me tutta squadra è fatta un bel weekend del Champions League, tutti hanno giocato bene. Posso dire che sono contento che abbiamo qualificato a prossima ronda di Champions League e che dobbiamo giocare a quarti finali adesso. Come state adesso? Perché una settimana senza giocare non la facevate da un bel po'. Sì, adesso alleniamo, prepariamo per questi momenti più belli della stagione, come posso dire, diverso. Prepariamo per primo quarti finali e dopo per playoff del Serie A. Stiamo bene, alleniamo bene, se prepariamo e spero vedere mia squadra di miglior forma adesso, prossimi due mesi. E sicuramente la squadra era in forma negli ultimi appuntamenti ufficiali perché sono uscite anche un po' di statistiche. Allora andiamo a vedere il primo servizio di questa sera che ci racconta quelli che sono stati i numeri di Trento in questa fase, la main phase di Champions League divisa, lo sappiamo, su questi due concentramenti, prima Trento e poi Frederik Schafen. Sentiamo. Una main phase maiuscola per la Trentino Itas che se in Superlega ha dovuto affrontare fasi di alti e bassi in Europa, fino a qui ha tracciato un cammino netto. Le classifiche di rendimento raccontano bene quanto la campagna continentale sia stata portata avanti con un grandissimo contributo da parte di tutti gli affettivi di Angelo Lorenzetti, pur avendo giocato solo cinque partite, infatti, visto che la sesta è stata data vinta a tavolino e non contribuisce quindi a migliorare le statistiche, la formazione giallo-blu è risultata come la più efficace imbattuta fra tutti e cinque gironi giocati, grazie a 42 ace in 19-7 con la media di 2,21 per parziale. Terza assoluta per muri realizzati. In tutto ne ha segnati 53, solo lo Scrabble Katov, 56 ma con una gara in più giocata, e il Carlo Vasco, 56 con due set in più giocati, hanno saputo fare meglio nel singolo fondamentale. A questi ottimi risultati hanno contribuito in maniera importante, in particolar modo, Nimir Abdelaziz e Srećko Lisinac. L'opposto olandese è di gran lunga il battitore più prolifico di tutta la main phase, grazie a 18 ace personali, poco meno di uno ogni set in media, con un margine di 7 punti sui primi inseguitori, Ferraneman e Bieneke a quota 11, mentre il centrale serbo è il secondo blocker con 17 muri vincenti, solo uno in meno del leader, Lidzic, del Novosibirsk. Curioso inoltre notare come lo stesso Nimir figuri al nono posto nella graduatoria riservata ai migliori palleggiatori, avendo ricoperto tale ruolo in più di metà degli incontri disputati dalla sua squadra, lo stesso motivo per cui Giannelli non è presente, visto che ne ha giocati soltanto 2 su 5 complessivi. Le altre classifiche mettono in evidenza l'ottima tenuta dell'intera linea di ricezione trentina, quinta per percentuale di palle perfette col 31% e del fronte d'attacco, altro quinto posto col 54%. Su quest'ultimo piazzamento ha sicuramente inciso molto il rendimento a rete dimostrato da Dick Koi, risultato il sesto schiacciatore della fase gironi per efficienza con 49,2% in schiacciata. La Trentino Itas è stata infine un'autentica macchina da breakpoint, in 5 partite ne ha realizzati ben 141 su 323 punti complessivamente siglati, solo che Zia Zirkozl ha saputo fare di più, 151 ma anche in questo caso con una partita in più giocata. Questo quanto è successo appunto negli mesi scorsi, nelle settimane scorse, ora Trento guarda avanti, dicevamo ancora Champions League perché si sta lavorando per preparare i quarti. Zirkozl raccontaci un po' come sarà la vostra settimana, voi già domani partite per Berlino. Sì domani partiamo per Berlino, ce l'abbiamo due voli a lì. I nostri giorni sono classici quando non ci sono partite, si allena un po' più forza a sala pesi, si allena un po' più tecnica per elementi parziali, come posso dire in italiano, non so se si capisce. Ma si lavora un po' più diverso rispetto a stagioni quando si giocano molte partite consecutive. E' buono che adesso avevamo questo tempo a prepararsi e secondo me li facciamo bene e spero che questo si vede a prossimi partiti. Il fattore campo potrebbe aiutarvi perché si gioca l'andata lì a Berlino, poi il ritorno potete giocarvelo in casa, in caso di parità c'è anche la possibilità di un Golden Set che si gioca alla BLM Group Arena, insomma questa formula ve la siete guadagnata vincendo il girone. Sì, questo era importante per noi per finire come prime quattro squadre che possiamo giocare a rimaccio al nostro palazzetto e come dire, giocare contro una squadra che non è di prime, che non è più forte. Certo, non è una testa di serie. Abbiamo fatto questa nostra idea, nostro plan per la Champions League e siamo una strada giusta secondo me. Il Berlino che squadra è? Cosa vi aspettate? Il mister lo sentiremo, ha detto che comunque è imprevedibile come formazione, quindi è difficile da preparare. È difficile da preparare per adesso perché loro hanno molti giocatori che non hanno giocato partite, hanno secondo me 15 giocatori, hanno un roster molto lungo e giocano bene. Sono sempre a prime due squadre a Germania, io giocavo lì agli anni 2013-2014. Lo so che sono ben organizzati e sempre... Abbiamo perso la connessione con Stretch, mentre noi la ripristiniamo. Allora andiamo subito a vedere il prossimo servizio che ci racconta quello che succede, come funzionerà questa fase dei quarti, che è la prima dell'eliminazione diretta per quanto riguarda la Champions League. Sentiamo. Dopo un'insolita settimana senza alcun impegno ufficiale, questa vedrà nuovamente la formazione allenata da Angelo Lorenzetti impegnata sul campo europeo. Giovedì 25 febbraio a Berlino è infatti in programma la gara di andata dei quarti di Champions League. Ritorno sette giorni dopo, il 4 marzo, alla BLM Group Arena. Alla Max Schmelingall di Berlino si gioca le 19.30, la prima delle due partite che valgono l'accesso alla semifinale. Trento si è conquistato il posto in palio quale prima della Pool E, mentre il Recycling Volley è sacchiuso tra le migliori seconde della Pool C, vinta dai Kazan. Questo il programma completo delle partite di andata dei quarti di Champions League. Si comincia martedì 23 febbraio al Palapanini con l'attesissimo derby italiano fra i padroni di casa di Modena e gli Umbri della Sierra Safety con ad Perugia. Mercoledì 24 febbraio alle 18 in campo l'altra formazione italiana, la Lube gioca in casa contro i polacchi del Keziezin Kozl. Lo stesso giorno alle 20.30 è la volta della sfida di Belchatov tra lo Scra e lo Zenit. Chiude il programma proprio il match di Berlino fra Recycling e Trentino Itas, in calendario alle 19.30 di giovedì 25 febbraio. Questo dunque è il programma per Trento a Berlino. Siamo tornati in collegamento con Zrecco. Eccoci qui, a volte la tecnologia non aiuta, ma dicevamo appunto della preparazione di questa partita. Come affronterete, come state preparando questo match? Sì, per adesso non sappiamo molto da questa squadra. Come ho detto, hanno 15 giocatori che non hanno giocato tutti in questi ultimi mesi. Qualcuni erano infortunati. Ma è una squadra bella organizzata, sanno giocare, sempre giocano per vincere Scudetto a Germania, sono sempre a top 8 squadre dell'Europa di Champions League. Non sarebbe facile, ma noi dobbiamo credere alla nostra forza e giocare al nostro migliore. Anche perché comunque entriamo in quella fase calda della Champions League, dove tutte le avversarie sono formazioni temibili. Sappiamo che c'erano anche tre italiane. Bene che non le si affronti almeno in questa fase, giusto? Sì, siamo contenti che per adesso siamo una strada un po', posso dire, più facile dell'Ube, Perugia e Modena, ma anche dobbiamo giocare il nostro miglior gioco per vincere. E allora sentiamo in merito anche alla Champions League cosa ci ha detto Mr. Angelo Lorenzetti e poi torniamo in compagnia di Lisinac. Solitamente queste pause, Angelo, ci sono due correnti di pensiero, chi li ritiene molto utili e chi invece li ritiene dannosi proprio poco prima dei play-off. La tua opinione qual è? Secondo me in questa situazione abbiamo trovato un buon equilibrio e quindi sono contento e soddisfatto del lavoro svolto fin qua. L'altro giorno è il quarto allenamento che abbiamo fatto proprio con la rosa completa, però insomma questo è qualcosa che riguarda spesso tante squadre e ovviamente abbiamo la speranza di poter terminare la stagione tutti insieme per cercare di ottenere il massimo del risultato. Le ultime partite, dopo le ultime partite avevi parlato spesso e volentieri di dover migliorare la fase di break. È proprio su questa fase che si è concentrato il lavoro di questo periodo? Un po', soprattutto per quel che riguarda il discorso della difesa dove si evidenzia della distanza rispetto ad altre squadre, cosa che invece non si vede così marcata in altre parti del gioco. I ragazzi ci hanno dato dentro e speriamo insomma di poterlo poi dopo trasformare in positività, in cose positive appunto in campo. Ultima domanda relativa al quarto di finale con Berlino, si gioca giovedì. Che squadra è questo Berlino Recycling Wallet? Ma innanzitutto perché sappiamo che conta è una squadra storica della Champions League che ogni tanto ha riservato anche delle belle sorprese per loro. È una squadra composta da tanti giocatori esperti. Questo fa sì che avendo una grande rotazione all'interno del sestetto insomma non sapremo bene con che formazione scenderanno e quindi è importante che noi avremo ben chiari i concetti del nostro gioco per poi dopo modularli in base alla formazione che scenderà in campo. Rieccoci insieme abbiamo detto della Champions League però non possiamo non parlare di Superlega perché sappiamo che ieri ha preso il via anche il turno preliminare Trento aspetta di conoscere il nome della sua avversaria dovremo andare a vedere ora i risultati di quello che è successo in questa prima giornata sappiamo che si gioca al meglio delle tre quindi Milano ha battuto Verona per 3 a 1 Modena ha battuto Ravenna 3 a 0 Piacenza ha battuto Padova per 3 a 1 si gioca la seconda partita già domenica prossima sui campi di Verona Ravenna e Padova Sresco voi giocherete contro la vincente della sfida tra Piacenza e Padova state un po' a vedere che cosa succede sono comunque due avversarie importanti Sì abbiamo guardato partita un po' dopo allenamento ma secondo me anche Padova che giocava senza due titolari giocava molto bene secondo me non è finita questa questa partita di loro due di Padova e Piacenza e sarebbe anche difficile per Piacenza vincere ma per noi adesso non è importante chi passa per noi è importante allenare bene e dopo chi arriva noi siamo pronti per tutte e due le squadre sì anche perché diciamo che i risultati hanno premiato un po' il fattore campo e anche l'ordine di classifica però questa superlega ci ha dimostrato anche con quello che avete fatto un po' a voi insomma che non è mai detto ogni singola partita fa storia a sé è vero è vero è un campionato lungo un campionato difficile abbiamo visto molte squadre che forse con nomi non erano migliori ma hanno giocato molto molto bene quest'anno e si deve giocare molto bene contro tutti per vincere secondo te Trento ha espresso il suo gioco migliore oppure può ancora dare molto perché abbiamo visto una fase di stagione dove avete inanellato una serie di vittorie bellissima però avete anche preso insomma delle buche diciamo così lungo il cammino per esempio la semifinale contro Perugia si può fare ancora molto oppure insomma il gioco è perfezionabile ma abbiamo visto un po' i livelli in campo secondo me abbiamo giocato bene ma migliore come possiamo giocare non abbiamo giocato in quest'anno spero sono sicuro che giocaremo migliore a futuro a prossimi partiti se vediamo un po' la classifica al termine della Superlega vediamo che ci sono queste due squadre che sono Perugia e Civitanova che hanno staccato un po' tutte anche Trento si trova comunque a quattro punti dalla prima però ne ha ben otto più di Monza che è al quarto posto sembrerebbe insomma un cammino scritto non è così non è così è sempre strada come ho detto molto lunga e contro tutti si deve giocare bene questo abbiamo visto a prima parte della stagione dove avevamo molti problemi anche fisici anche con nostra forma ma abbiamo cresciuto abbiamo imparato a giocare meglio e secondo me non abbiamo arrivato a punto dove siamo più forti e a questo punto spero arrivare con più difficili partite arrivare quando è più importante con miglior forma quanto è più difficile questa stagione rispetto alle altre viverla così senza pubblico con tutti questi tamponi questi controlli a te pesa? è difficile è un po' pesante sempre fare tamponi sempre giocare senza pubblico ma io sono felice che possiamo giocare alla fine era molto brutto quando abbiamo finito stagione non giocarla alla fine dopo lunga pausa da sei mesi cinque mesi quanto è durata l'abbiamo ripreso e questo non era facile per recuperare forza recuperare questo che abbiamo perso questi difficili momenti ma se dobbiamo giocare è sempre meglio giocare aspettiamo forse un mese spero che si tornano anche tifosi che si torna tutto a una situazione normale come era prima ne approfitto anche a nome di tutta la redazione di RTTR per farti gli auguri perché sappiamo che il primo febbraio è arrivato Luca e anche in questo caso hai dovuto viverla un po' a distanza insomma anche qui il covid non ha aiutato intanto vediamo la tua compagna il tuo bellissimo bambino sei riuscito ad abbracciarli finalmente grazie mille sì ho riuscito ad abbracciarli ero a casa quattro giorni sono emozioni più belli non si possono spiegare con parole ma sono felice che ho visto loro sono a casa a Belgrado ma è un po' difficile per me ma per loro è più facile che hanno qualcuno per aiutarli lì così siamo sempre in contatto con video call e spero anche vederli presto così è bello e questa purtroppo è la storia a cui da un anno questa parte con cui tutti dobbiamo fare i conti ecco insomma Sresco grazie per essere stato con noi alla vigilia di questa importante partenza in bocca al lupo aspettiamo belle notizie da Berlino grazie a voi grazie a Sresco noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità poi torniamo insieme restate con noi che perché RTTR Vali continua eccoci insieme abbiamo salutato Sresco Lisinaz ma continuiamo perché abbiamo avuto il piacere di rivedere un volto che negli ultimi anni ha fatto un po' parte della storia di Trento sappiamo che sabato a Trento si è svolta una partita di serie A3 con l'Uni Trento Volley che ha giocato contro un'altra formazione di A3 la Tinet Prana di Portenone che da poco ha un nuovo allenatore che qui conosciamo bene perché è stato l'assistant coach di mister Lorenzetti e proprio qui a Trento ha cominciato la sua carriera di allenatore allora andiamo a sentire cosa ha detto al microfono di Francesco Segala Dante Boninfante fortunatamente è partita la mia avventura da primo allenatore passando per Trento come prima trasferta sì non sarà un caso in un posto dove sono tanti amici sono legato tantissimo ho imparato tanto e quindi sono contento di essere passato e aver visto tanta bella gente da assistant coach di Angelo Lorenzetti stai già utilizzando gli insegnamenti o le cose che hai preso da Angelo per la tua prima esperienza come tecnico ci provo i risultati dicono di no per ora spero di non fargli fare brutta figura continuiamo a lavorare sicuro l'impostazione è quella sua immagino che tu stia seguendo comunque il campionato dell'ITAS Trentino che impressione hai avuto fino ad ora della stagione di quella che è stata la tua squadra per tre stagioni sono stati molto bravi a invertire una tendenza negativa iniziale un po' per ambientamento covid e tutte le questioni che riguardano sempre una squadra a inizio stagione sono stati molto molto bravi e adesso secondo me hanno dimostrato di poter combattere con tutti fino alla fine ultima cosa in tempi di covid nella scorsa stagione un anno fa non avevi avuto modo di salutare i tifosi perché purtroppo non c'era stata l'opportunità in questo caso ti offriamo il microfono proprio per farla ma certamente un saluto a tutta la curva a tutti i tifosi di Trento un grande in bocca al lupo e ci vediamo presto Siamo al termine di questa nostra puntata di RTT Revolle come sapete non ci sono match freschi da proporvi per rivederli insieme allora ne abbiamo scelto uno di quelli che più ci ha appassionato in questa prima fase della stagione giallo-blu siamo andati a ripescare l'impegno di Superlega con la vittoria di Trento sulla Lube Civitanova alla BLM Group Arena grazie per essere stati con noi noi ci rivediamo lunedì prossimo alle 21 sempre qui su RTTR buona serata grazie per la visione